In inglese faccio, dai, sì, più o meno. In inglese, italiano, dialetto. Ok, allora, now it's the race, ok? It's eight lap, you have the formation lap, ok? You're entering, you stay in your Gokka, the same number before. You're entering, you have the formation lap, ok, the starter is in this place, is in this position. With your Lukey, you have the reason, with the number, the number is the position, it's not the number for your Gokka, ok? You have Melchiorchi in pole position, ok? Position number one, position number two, you have the Zorzi, position number three, Rabin, position number four, Daniel, position number five, Carlotto, position number six, Moodley, position number seven, Velardinelli, position number eight, Russell, nine, Owen, ten, Benza, eleven, Sandy, ok? Sandy, you have the Gokka number five, 15, 15, 15, 15, ok? It's eight lap, the race start with the Italian flag, ok? Stay in this position, when the Claudio move the flag, start the race. It's eight lap, ok? The race don't finish in the first corner after 150 meter, ok? It's eight lap, start the race, you prove your position, your space, you enter, start the race, because normally the first corner is little dangerous, ok? It's eight lap, after the flag black and white, finish the race, and you in this position, ok? Ok. First, four driver, go directly in the Super Final, ok? Good luck. Good luck! Si parte in pole, bene, 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 sono molto contento, ok? Andiamo a schierarci in griglia, si parte dal lato interno, per cui un po' di vantaggio, si parte anche in testa, per cui non dovrei avere problemi a quanto riguarda il gruppone. Facciamo un po' di warm up alle gomme, portiamo in temperatura i freni, in teoria potrei anche avere un vantaggio derivante dal minor carburante. Devo essere di più! Prima fila tutto mestrino, perché c'è Manuel che è mio compagno di lavoro, mio collega di lavoro da mestrino, mentre tutti gli altri sono inglesi, un po' sparpagliati dai. Facciamo una bella partenza, andiamo a vincere dai, vediamo di fare del nostro meglio. Perfetto, andiamo subito in protezione della prima curva. presso un po' di trazione e adesso... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.